ciao amici ciao stanchi casinò provati dalla giornata si adesso andiamo lì no non andiamo lì è finito Royal Hotel Sanremo e che dire è una struttura come c'è la parsa immensa grandissima molto molto complessa complessa loro sono molto molto organizzati hanno dipartimenti rigidi sì molto però c'è da lavorare penso che per una struttura così due giorni non bastano però noi siamo nuovi oltretutto spero che si capisca comunque vabbè siamo abituati a fare dei tour quindi non è un problema domani mattina siamo svegli 6 e mezza alle 7 siamo già a fotografare buffet abbiamo tutto un programma da rispettare tutta una tabella di marcia arriveremo fino a fare le camere oggi abbiamo fatto le camere suite oggi abbiamo fatto la parte degli esterni qualche sala diciamo che ci siamo con il lounge qualche foto con personale anche qualche foto di personale sì qualche rapporto con il personale diciamo che abbiamo iniziato già ad avere un quadro fotografico un po' della struttura in sé sia esterno che interno domani ci dedicheremo appunto le principali sale da colazione al ristorante per poi passare alle camere abbiamo preso qualche qualche cielo importante basta sarà lavoro anche dei tecnici un po' sproduzione a rendere le nostre foto un po' più magiche di quello che siamo già buoni a fare noi e basta del resto vediamo vediamo domani domani facciamo ancora questo tour de force ma di nuovo ci aggiorniamo domani ciao ragazzi ciao